E' stata pubblicata dal nostro Presidente della Regione Puglia una nuova ordinanza che anticipa i termini di applicazione del DPCM del Presidente Conte. Chiaramente il Presidente Emiliano lascia ai sindaci delle discrezionalità. La norma che io assolutamente condivido è che il Presidente Emiliano ripristina l'obbligo di quarantena per i nostri parenti che tornano dal nord. Si possono aprire anche le attività di toilettatura cani che anticipa l'apertura dei cimiteri, non fa menzione dei parchi proprio perché lascia come Conte discrezionalità ai sindaci di valutare le situazioni. Non apriremo i cimiteri domani perché abbiamo necessità di organizzare le forze dell'ordine per regolamentare gli accessi al cimitero perché il cimitero non può essere ovviamente occasione di aggregazione di cittadini, di assembramento di cittadini. Sono in grado di organizzarla da lunedì prossimo. Si è consentita l'apertura da domani delle attività commerciali che possono di somministrazione di alimenti e bevande che come sapete la grande novità è quella che possono anche effettuare l'asporto, non più soltanto i servizi a domicilio. Si apriranno tantissime attività, pertanto non concentriamoci soltanto sulle attività che sono in Via Matteotti, Via Repubblica e nelle piazze più centrali della città. Cerchiamo di distribuirci in base anche al nostro luogo di residenza. Domani la situazione a me preoccupa moltissimo, non ve lo nascondo, mi preoccupa moltissimo le situazioni di assembramento che si potranno creare. Le analizzeremo, cercheremo di analizzarle dettagliatamente e probabilmente, ve lo anticipo, prenderemo delle decisioni drastiche che andranno sulla mobilità, cioè che andranno a incidere sulla mobilità di tutti i giorni. Questo per evitare gli assembramenti o con gli autoveicoli o, peggio, a piedi. E' uscita una nota del Viminale stamattina che chiarisce quello che vi avevo anticipato ieri. Un solo adulto può svolgere attività motoria con i minori. Si parla solo di attività motoria che io ovviamente vi consiglio di fare nelle parti più lontane dal centro urbano possibile. Per quanto riguarda, mi chiedo, i contributi per i fitti abbiamo iniziato a procedere tramite l'istituto bancario. Saranno ovviamente pagati prima coloro che hanno comunicato l'Iban. Quelli che non hanno comunicato l'Iban dovranno aspettare più tempo perché la banca contingenterà gli accessi. Purtroppo, per i parichieri, estetisti, barbieri che continuano a scrivermi, nella rivolta generale delle partite IVA, come sapete, dobbiamo aspettare per decisioni normative fino al 17 di maggio, per prima, sicuramente la settimana precedente, per sapere quali sono le decisioni dell'eventuale fase 3. La notizia positiva per la provincia di Bari, anzi per l'area metropolitana di Bari, come sapete tutti, è di zero contagi oggi. È la prima volta dopo settimane da incubo. Speriamo di continuare così. Grazie a tutti.